Assessore, si sta cercando di rendere fruibile un'altra zona sconosciuta e più del castello Chiaramonte? Sicuramente sì, a piccole tappe però devo dire che con grossi segnali stiamo cercando appunto di riattivare, di rivitalizzare sostanzialmente il castello di Chiaramonte come bene e come bijou della nostra favara. Rendendolo fruibile abbiamo iniziato con questi lavori a fare ripartire il tocco del suono delle ore, il rintocco delle ore del nostro orologio rendendolo anche luminoso nelle ore notturne. Poi abbiamo rimesso nel suo alloggio la bandiera appunto con il logo e lo stemma del nostro castello. Dicevo stiamo cercando di renderlo fruibile a tutti perché vorremmo e volontà di tutta l'amministrazione volendo sinergizzare appunto quelle che sono le nostre energie di ogni Assessore e quindi come se fosse una banda musicale che suona dallo stesso spartito perché l'intenzione appunto della nuova amministrazione è quella di rivitalizzare favara, di ridare veramente nuovi percorsi e dare una nuova luce a tutta la nostra favara. Ripartendo appunto dal posto centrale che è il castello, facendolo rivivere e rimettendolo in un percorso turistico che possa vivacizzare tutta la società favarese. Mi corre l'obbligo di ringraziare appunto tutta la Giunta, il sindaco in prima persona perché sollecita giornalmente appunto di riattivare questi percorsi. I ragazzi del castello che con grandi sacrifici si stanno praticando affinché possano veramente dare un tocco nuovo a questo sito. I ragazzi e le persone, tutti gli operai dell'ufficio tecnico, dai giardinieri ai manutentori che veramente con spirito di sacrificio e con impegno d'obbligo morale nei confronti della società favarese stanno cercando appunto di dare questa nuova vendata. Quindi auspico che a brevissimo tempo il nostro castello possa diventare un luogo e un sito di eventi non solo culturali ma anche sociali.